FIFA 15 ULTIME TEAM La difesa 3 sapete benissimo che su questo FIFA viene considerata un po' in modo negativo, perché? Perché è difficile difendere su questo FIFA, possiamo dirci quello che vogliamo, ma in un gioco che premia molto l'attacco, la velocità e comunque i moduli magari tipo il 4-3-3, avere un 3-5-2 è difficile, perché vuol dire che in fase difensiva rischiamo di essere sempre in 1-1 contro gli attaccanti avversari. E capite che in un gioco, come ho detto, che premia molto il dribbling, l'agilità eccetera eccetera, vuol dire fare partite e subire tanti tanti gol. Io ho voluto metterlo alla prova questo modulo con due squadre, la prima è una serie A tra 5-2 e la seconda è una BPL tra 5-2 con i giocatori più o meno che vedete sotto. E ho scoperto che effettivamente non è più la grandissima fortezza dell'anno scorso, perché avevamo tra i difensori centrali, i mediani che aiutavano, gli esterni che facevano tutto il campo, che era l'anno scorso. Questo però non vuol dire che è un modulo scarso, anzi molte partite le ho vinte, anzi più della metà delle partite le ho vinte, quindi secondo me non è così scarso come molti vogliono farci credere. Però c'è un grossissimo però, mentre scorrono intanto le immagini delle partite che ho fatto, dei gol che ho realizzato con entrambe le squadre. C'è un grossissimo però, dicevo, e il però dipende molto dai giocatori che andiamo a schierare, quindi dobbiamo dire addio alle squadre con magari esterni molto offensivi prima di tutto. Quindi io mi ricordo che l'anno scorso molti utilizzavano Robben, Ronaldo come esterno sinistro, esterno destro, quest'anno dovete assolutamente dimenticarvelo. Gli esterni devono dare assolutamente una mano dietro, devono scalare, perché? Perché quest'anno va molto di moda il 4-3-3. Quindi capite che se lasciate magari un giocatore in uno contro uno costante, il rischio è che prima o poi, anche se vi salta una sola volta durante la partita, magari quella volta li segna e voi subite un gol che potevate tranquillamente evitare. Quindi avere degli esterni che tornano molto in difesa aiuta molto. Questo non vuol dire che però devono essere esterni con medio-alto di Warcrest, quindi che stanno solo in difesa, perché comunque devono dare una mano in attacco. Quindi una combinazione secondo me perfetta può essere Asamo A quadrado per una serie A, quindi abbiamo un Asamo A che dà una mano dietro e non disdegna comunque di salire ogni tanto, e un quadrado che spinge molti in attacco ma una mano dietro non disdegna di darla, quindi comunque fanno tutte e due le fasi abbastanza bene. Altra cosa importantissima, i centrocampisti. Qui potete scegliere due cose, ad esempio metterne uno con medio-medio, alto-alto, addirittura alto-medio se siete molti in grado di difendere, ma uno deve avere assolutamente un Warcrest difensivo. Quindi in questo caso i vari De Rossi, i vari De Jong, i vari Matic, se parliamo di BPL, eccetera, eccetera. Perché? Perché deve fare da praticamente difensore aggiunto, quindi a volte capita che De Rossi scala indietro, Bocchetti può permettersi magari di uscire sugli esterni quando Quadrado è leggermente in ritardo, però non rimanete in inferiorità numerica dietro. Perché dico che però ce ne vuole uno leggermente più offensivo? Perché deve dare una mano in attacco, perché cosa non dobbiamo fare con questo modulo? Mettere troppi giocatori difensivi, se io mettevo degli esterni difensivi e in più magari mettevo un De Rossi e un De Jong davanti alla difesa, ottenevo magari un fortino perfetto, però in attacco lasciava alquanto a desiderare la squadra. Questo vale anche per la BPL, quindi non mettete un Matic e un Fernandinho davanti alla difesa, mettete magari un Matic e un Sissoko, un Matic e un Ramirez, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'attacco, molto 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 simile all'anno scorso, se non uguale. L'unica differenza fondamentale qual è? È che l'anno scorso i colpi di test erano molto più efficaci, quindi quest'anno possiamo anche decidere di fare un tridente più basso, che gioca a pallaterra, che punta la velocità. In questo caso nella Serie A avevo fatto Pogba, che trequartista è incredibile, Tevez e Paloski, che volevo recensirlo, ma se non volete mettere Paloski, potete mettere tranquillamente i vari Guain e i Barbo, Dumbia, sapete che sono giocatori che vanno benissimo in ogni caso. Cosme giocare, quindi in attacco, pallaterra, a mio parere se usate questo modulo, e ricordatevi che Pogba ha un ottimo tiro da fuori. Comunque, a mio parere, il trequartista deve essere un trequartista classico, quindi non fate indietreggiare, ad esempio, Tevez per metterlo trequartista, a mio parere, o mettete un trequartista che ha un ottimo tiro da fuori, come Pogba, o comunque un trequartista che sa passare e sa dribbare la palla, perché molto spesso sarete in inferiorità numerica, o comunque anche voi in uno contro uno, perché a seconda del modulo dell'avversario è importantissimo avere un buon dribbling per saltarlo, creare spazi, e poi o tirare da fuori, o scaricare, o comunque creare qualcosa. I problemi però di questo modulo sono tanti comunque, perché noi possiamo decidere sì di sistemarlo bene, con i workers, con le istruzioni, eccetera, eccetera, ma in difesa soffrite parecchio, quindi è un modulo consigliato per chi sa ben difendere, perché nonostante avete tre difensori, che sono difensori, quindi che non salgono, quindi non sono come Jummel, Sergio Ramos, David Luiz, soffrite tanto, e io molte partite le ho perse, o comunque le vincevo, magari le vinco 5-4, 4-3, quindi comunque non è un modulo che vi dà solidità difensiva dietro, quindi se non sapete difendere, non dico alla perfezione, ma comunque è già bene, quindi cercate, sapete quando chiudere, quando uscire con i difensori, sapete contenere, piuttosto che magari siete in due contro uno, vi mettete in mezzo tra gli attaccanti per non uscire e dargli quindi un vantaggio eccessivo, se non sapete fare queste cose abbastanza bene, vi direi di non utilizzare assolutamente questo modulo, piuttosto utilizzate il 5-2-1-2, che è un po' una variante con i terzini che sono leggermente più bassi, ma vi dà sicuramente più solidità dietro, quindi il 3-5-2 è stato sicuramente depotenziato rispetto agli altri anni, ma rimane comunque un ottimo modulo e vi consiglio di provare perché comunque vi divertirete, quindi con oggi abbiamo concluso, ditemi se avete già provato questo modulo e come vi siete trovati, noi ci vedremo presto, ciao a tutti!